Sempronimo, quello che vedo stasera... Nel 1982 sono stati riammessi, se non erano stati invadiati. E' inquadrato il tuo orologio, Sempronimo, quello che vedo stasera è un Rolex, altro che pane e ciaudelle, ti tratti bene. Veramente? No, non glielo dico, sono poveri stronzi. Ma sì, non la c'è. E' una pattuta, dai. Ah, quale pattuta? Quello Rolex. No, 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 dai, dai. Ma che dai, dai, pare le panno. L'orona, c'è una battuta scherzosa. Ma che stai a peccolo, ma perché non me lo vieni a dire in faccia? Tu quando mi incontri a pesca? Vieni me lo a dire in faccia. Se mi vuoi peccolo, lo faccio vedere. Però c'è il quadrante rosso-blu. Se anche lo fosse stato... Il quadrante rosso-blu, tanta roba. Un orologio normalissimo, un orologio che... Allora, facciamo una cosa. Era una battuta scherzosa, chiediamo scusa, nessun riferimento, anzi chiediamo assolutamente e ci scusiamo. E... E... E...